Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sto bene dai. Allora, iniziamo questo video facendo delle premesse come al solito. Ho messo della pioggia di sottofondo, sperando non vi dia fastidio, per coprire il rumore dei vicini. Perché ci tenevo a fare questo video, ma i vicini hanno deciso di mettere la televisione al massimo del volume, dandomi fastidio. Quindi spero che vi piaccia la pioggia, a me fa rilassare molto, quindi spero anche a voi. Seconda cosa, mi sono fatta due nuovi piercing, ci sono ricascata, mi dispiace, però prometto che questi sono gli ultimi. Promesso, promesso, promesso. Il primo piercing che ho fatto è questo qui all'orecchio. Questo qui su, come ce l'avevo già da questo lato e volevo farlo uguale, penso di esserci riuscita come posizione. E il secondo che ho fatto è questo qui, per averlo uguale a questo. Ditemi se vi piacciono. Li ho fatti sempre io da sola a casa, mi raccomando voi non fatelo perché è pericoloso. A me piacciono moltissimo. Sono molto contenta di averli fatti. Adesso penso sia proprio arrivata l'ora di smetterla. Anche perché sono arrivata a 16 piercing in tutto. E penso siano abbastanza. Allora, il video di oggi è un question and answer, un domande e risposte. E sono molto emozionata perché è il mio primo video di domande e risposte. E ho sempre voluto farlo. Ho chiesto a voi di farmi delle domande nella community di YouTube. E adesso risponderò a quelle che mi avete fatto qualche giorno fa. Non sono tantissime. Però cercherò di farvi durare questo video il più lungo possibile. per potervi far rilassare il più possibile. Insomma, iniziamo subito. Non dirò i nomi perché non so, magari non vi va di essere nominati. Però vi saluto tutti. E vi ringrazio tantissimo per le domande che mi avete fatto. Grazie, 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 grazie. Iniziamo. Quindi guardati qua perché c'ho il computer. Prima domanda. Che libro stai leggendo al momento? Al momento sono nel blocco del lettore assoluto. Da qualche due settimane più o meno. Quindi al momento non sto leggendo nulla purtroppo. Spero che con l'inizio di novembre io riesca a riprendere a leggere. Ho nella TBR tre libri in realtà. Uno di Shadowhunters è la tuologia di Sadie Corfi. Quindi spero di riuscire a leggerli durante il mese di novembre. La seconda domanda è... Come hai conosciuto la tua ragazza? Ci siamo conosciute tramite internet perché viviamo lontane. Lei è del nord e io sono del sud. Se non si fosse capito ma penso proprio di sì. Terza domanda. In quale creatura sovrannaturale ti rispecchi di più? È una bella domanda. Non ci ho mai pensato in realtà. Forse un po' nei vampieri, un po' nei fantasmi. Se si possono considerare come creature sovrannaturali. Mi piacciono molto. Sì, credo loro. Allora. Ti piace la musica? Sì, sì. Che genere? Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Allora sì, mi piace la musica. Però non sempre. Vado molto a periodi. E ascolto la musica solo quando devo fare qualcosa. Per esempio, quando devo pulire casa, mi piace tantissimo ascoltare la musica. È una cosa divertente che faccio e che entro dentro la musica. È come se fossi in un musical. Inizio a ballare e cantare come una pazza. Che genere? Qualsiasi genere. Non ho cantanti preferiti perché non ascolto cantanti. Io ascolto la musica in generale. Potrei dirti di un cantante una canzone così per tutti quanti. Perché non ascolto solo un cantante, un genere. Ascolto davvero di tutto. La musica che ascolto la trovo principalmente nei film. Quindi ascolto davvero di tutto. Se ti dovessi dire un cantante, nello specifico, che proprio mi è rimasto da quando ero piccola. Harry Styles. Sì, proprio, proprio. Oppure i Twenty One Pilots che li sto trascinando dall'adolescenza. Ma non è che proprio esco pazza. Allora, mi piacciono e ascolto le loro canzoni. Che lavoro sognavi di fare da quando... No, che lavoro sognavi di fare da piccolina? È ancora il tuo sogno? La regista? Eh sì, è ancora il mio sogno e spero di riuscirci prima o poi, chissà. Suoni o hai mai suonato qualche strumento? Allora, alle medie suonavo il flauto, come penso a tutti quanti. Sempre alle medie, perché io facevo la sezione con lo strumento, ho iniziato a suonare la chitarra classica. E purtroppo poi ho smesso, quindi non la so suonare. Quindi no, non so suonare in nessun strumento, in realtà è tutta una finta. Hai qualche serie tipo film che ti vada di consigliare? Certo, mi piacciono tantissimo. Come serie ti dico le mie preferite, più o meno. Almeno quelle che mi piacciono davvero tanto, perché preferite non ne ho proprio quelle e basta. Sherlock è la mia preferita di sempre. You mi piace tantissimo. Poi che cos'altro? New Girl è la mia preferita di sempre. Propagalow è rivista cinque volte e non mi stanco mai. I nuovi film di IT, quindi IT capitolo 1 e 2, non mi stanco mai di guardarli, anche perché sono identici al libro. Stupendi. Poi che cos'altro? Noi siamo infinito. Matilda. Non lo so, ti sto dicendo tutti i miei film preferiti praticamente. Quindi basta così dai. Andiamo avanti. Come nasce la tua passione per gli anelli e se ti ispiri ad un genere creativo particolare? La mia passione per gli anelli nasce da mio padre. Mio padre è orefice. Mia nonna aveva una gioielleria, quindi è di famiglia. I miei zii, dalla parte di mia nonna sempre, quindi dalla parte di mio padre, sono sempre dentro questo campo. E quindi è sempre così. E sono cresciuta in questo mondo. Prima o poi era inevitabile che ci finissi dentro. E' stato un caso, è stata una fortuna, un colpo di genio, che io ho chiesto a mio padre di realizzarmi questo anello perché l'avevo visto indosso ad un attore e non si trovava in commercio. E io ho chiesto se poteva realizzarlo lui e dopodiché l'ho messo su TikTok per farlo vedere perché me ne ero innamorata e tutti quanti mi hanno chiesto di venderlo, di spedirglielo, insomma di realizzarlo per gli altri. E da lì nasce poi il mio piccolo business, di cui ne vado davvero fiera e sono innamorata. E' davvero la mia piccola gioia e spero non muoia mai perché è tipo il mio piccolo bambino e mi porta davvero ad andare anche se va un po' male. Allora, ultimamente devo essere sincera, spero migliori perché non mi dispiacerebbe fare questo come lavoro, speriamo insomma. E non mi ispiro a nessun genere creativo particolare, semplicemente esaudisco ciò che mi chiede il cliente perché per me è la cosa principale ovviamente rendere felice il cliente. E poi le mie idee, disegni, qualsiasi cosa si può realizzare. Vediamo quante volte hai dovuto fare qualcosa pensando di fare contenti gli altri, non pensando alla tua felicità. Questa è una bella domanda ed è molto profonda, quindi grazie. Purtroppo sempre mi capita molto spesso di mettere prima gli altri, di pensare prima gli altri in qualsiasi decisione della mia vita, di pensare che ok, io faccio questa cosa, ma come si sentirebbero gli altri se io la facessi davvero. Soltanto quest'anno sto realizzando che anche se io prendessi delle decisioni sbagliate, comunque le persone che mi vogliono bene mi continuerebbero a voler bene. Una cosa stupida, per esempio, il piercing, una cosa davvero stupida, ma è un esempio che, concreto, a mio padre non piacciono. Mio padre li odia, però mi piacciono tantissimo. Io li ho fatti lo stesso, eppure mi vuole bene lo stesso, è sempre mio padre. Lui non era contento, ovviamente, quando l'ha visto questo qui, mi ha detto addirittura che mi viene un'infezione e mi arriva il cervello. Cosa che è davvero da ridere. Ma io l'ho fatto lo stesso, ho messo la mia felicità davanti a quella sua, solo perché mi piaceva. E sto iniziando ad accettare questa cosa, che va bene anche se faccio queste cose. Perché alla fine è la mia vita, e va bene rendere felici gli altri, ma dobbiamo pensare anche a noi stessi. Quindi va bene così. Piano piano sto imparando, lo sto imparando e lo sto accettando. Grazie per la domanda. Andiamo avanti. Ti piacciono gli anime? Se sì, quale stai guardando in questo periodo? Ce n'è uno che ti è entrato nel cuore? Poi, qual è il cartone che ti piaceva da piccola? Allora, gli anime non mi piacciono molto. Ho letto qualche manga, quindi non sto guardando nessun anime in questo periodo. Il cartone che mi piaceva da piccola tantissimo. Monster Allergy. Io mi ricordo proprio che lo guardavo da piccola. e c'è stato un periodo durante il liceo che in cui stavo malissimo, proprio triste triste. E mi ricordo che mi chiudevo in bagno a guardare le repliche di questo cartone. E sparivo delle ore per guardare questo cartone in bagno e chiudermi nel mio mondo. Per non pensare ai tutti i problemi che c'erano a scuola. Andiamo avanti. Quanti anni hai? Ho 22 anni appena fatti. Il 19 luglio. Sei mai stata male per amore? Allora, io ho avuto solo una relazione ed è quella in cui sono in questo momento. E non credo di averne altre, che non ne avrò mai altre, perché sto benissimo con la mia ragazza. Grazie mille. Certo, si, capita di stare male per amore, ma l'importante è parlare e risolvere i problemi insieme. Hai mai avuto amicizie tossiche? Certamente. Non andiamo troppo nell'argomento. Che rapporto avevi con la scuola e lo studio? Bruttissimo, terribile. Io dico sempre che non tornerai mai indietro. Cioè, se avessi la possibilità di tornare indietro con la mentalità che ho adesso e fare tutto da capo, però in maniera giusta, lo farei. Però, se dovessi tornare indietro e riaffrontare tutto quanto, non ce la farei. Neanche per un milione di euro, non ce la farei. La scuola è stato il periodo più brutto della mia vita. Più nero, triste, buio. Davvero terribile. Lo studio, invece, è orribile. Perché sono una persona a cui piace tantissimo imparare. per studiare, per poi ricevere un voto. No. Per fare una performance davanti a altre persone. Io soffro tantissima d'ansia. Quindi, proprio no. Di più, è una tipologia d'ansia evitante. Quindi, spiego un po'. Sapevo di avere una verifica questo giorno. Io evitavo di studiare piuttosto che avere l'ansia. Quindi, evitavo il problema, secondo la mia testa. Ma, in realtà, ovviamente, non si risolve così. Quindi, stavo il doppio male. Orribile, orribile, davvero. Ultima domande. Hai fratello e sorelle. Che rapporto hai con loro? Ho un fratello più piccolo di 5 anni. Più piccolo di 5 anni. Quindi ha 17 anni. Ha un buon rapporto con mio fratello, per fortuna. Quando eravamo piccoli, ci scannavamo. Litigavamo. Sempre, sempre, sempre. Però adesso siamo migliori amici. Dai. Hai animali domestici? Tantissimi. Ho una fattoria, praticamente. Allora, ho 4 gatti. 2 dentro casa e 2 in giardino. 2 cani. Un po' di pappagalli. Non so quanti, precisamente. Però, 2 sono dentro casa e un po' fuori. Una tartaruga piccola e una grande. Poi, cos'altro c'ho? Basta, mi sembra. Mio Dio. Mi sembra, basta. Oddio, mio fratello c'è anche un ragno. Che l'abbiamo catturato perché è entrato dentro casa. Ed è una finta tarantola. Abbiamo cercato su internet. Pensavamo fosse una tarantola. In realtà si chiama proprio fin da tarantola. Gigante, una roba così. Bellissima, però. Hai delle abilità che ti piacerebbe perfezionarie. O delle cose nuove che ti piacerebbe imparare. Sì. Tantissime cose. Vorrei essere più capace in tutto, in realtà. Perché mi sento proprio incapace in qualsiasi cosa che faccio. Per esempio, vorrei essere più brava a disegnare. Vorrei essere capace a fare tutto. Vorrei essere più intelligente. Vorrei essere capace a concentrarmi, a dedicarmi a qualcosa e portarla a termine. Mi sento proprio stupida. Però sono difetti. Mi sento proprio, non lo so, inconsistente e incostante. O scostante, non so come si chiama. Beh, mi sento proprio stupida, scusatemi. Comunque, finiamo questo Q&A con un po' di tristezza, scusatemi. Spero comunque di portare avanti il canale, perché questa è una passione che mi piace tanto. E spero di non mollarla come faccio con tutto nella mia vita. Ok. Ho risposto a tutte le domande. Vi ringrazio ancora per avermele fatte. Davvero di cuore. Sembra un po' barbara d'urso. Di cuore. Fatemi sapere se la pioggia vi rilassa o vi dà fastidio. Così in caso, magari in qualche altro video la posso rimettere. Oppure non la metterò mai più. E grazie mille per aver guardato il video. Io vi auguro una buonanotte e buon riposo. Fatevi i sogni. Vogliatevi bene. E non preoccupatevi di nulla. Le cose si sistemeranno sempre. Buonanotte. 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 Buonanotte.